Le premesse della Guerra Fredda, gli anni immediatamente successivi alla conclusione della Seconda Guerra Mondiale e le premesse della Guerra Fredda. Allora, definiamo anzitutto la Guerra Fredda, almeno nel significato generale e approssimativo di questa espressione. Innanzitutto vale la pena di ricordare che l'espressione Guerra Fredda risale al grande scrittore inglese George Orwell che la utilizza per la prima volta in un suo saggio del 1945. Tuttavia entrerà in uso qualche anno dopo. Per Guerra Fredda si intende una guerra non combattuta sul terreno militare, tra due avversari che si affrontano, che si affrontano con la loro potenza bellica, con la forza dei loro eserciti, con la capacità distruttiva e offensiva delle loro armi. Se questo fosse avvenuto, considerando i protagonisti della Guerra Fredda, sicuramente la conseguenza sarebbe stata una catastrofe per l'umanità intera, visto che, appunto, i due attori principali della Guerra Fredda erano le superpotenze uscite vincitrici dalla Seconda Guerra Mondiale, vale a dire gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica per decenni preferirono sfidarsi e affrontarsi per lo più su altri terreni, sul terreno della propaganda politica, della sfida ideologica, della competizione tecnologica, scientifica, economica, sul terreno dello spionaggio e del controspionaggio. E quando questa guerra fredda, quindi questa guerra combattuta con armi diverse dalle armi vere e proprie, quando questa guerra fredda scivolò sul piano del confronto militare, questo avvenne, come vedremo, per interposta persona, per procura, come si disse, cioè mandando avanti attori minori, potenze più piccole o decisamente di secondo piano, utilizzate come le pedine di una scacchiera nella quale, appunto, si giocavano i destini del mondo, sicché conflitti anche relativamente periferici, assunsero una duplice valenza. In primo luogo, naturalmente, riguardarono le specifiche questioni che erano in gioco in quei settori, in quelle aree, ma indirettamente, indirettamente, riguardarono anche il braccio di ferro in atto tra l'Unione Sovietica e i suoi alleati da un lato, gli Stati Uniti e i loro alleati dall'altro. Sì, perché non furono soltanto questi due colossi a misurarsi nella Guerra Fredda, ma appunto anche il complesso di paesi e di nazioni legati rispettivamente all'orbita americana e a quella sovietica. In questo senso si può parlare di uno scontro tra due blocchi di paesi, impregnato il primo attorno agli Stati Uniti, il secondo attorno all'Unione Sovietica. Più approssimativamente, da un lato il blocco occidentale e dal lato il blocco orientale. Con la Cina, che a un certo punto, come vedremo, svolge il ruolo di terzo incomodo e con i paesi cosiddetti in via di sviluppo a svolgere invece la parte dei battitori liberi. Ma anche su questo torneremo con più calma. La Guerra Fredda copre un periodo compreso tra il 1947 e il 1991, cioè tra gli anni di poco, di pochissimo successivi alla fine della Seconda Guerra Mondiale e la dissoluzione della Unione Sovietica, perché la grande sconfitta in questa Guerra Fredda fu appunto l'Unione Sovietica e con essa il blocco dei paesi che orbitavano attorno alla grande potenza comunista. Ma appunto oggi si tratta di chiarire quelle che possono essere considerate le premesse della Guerra Fredda. Ebbene, queste premesse risalgono già alla fase finale, conclusiva, della Seconda Guerra Mondiale. Tuttavia è forse importante, diciamo, una premessa ulteriore, una premessa della premessa, partendo dall'agosto del 1941. Nell'agosto del 1941 il presidente americano Franklin Delano Roosevelt e il premier, cioè il primo ministro britannico Winston Churchill, si incontrano per definire i termini di una alleanza per il momento soltanto politica, ma di lì a poco anche militare, perché gli Stati Uniti entreranno in guerra dopo l'attacco giapponese a Pearl Harbor, avvenuto il 7 dicembre del 1941. Qui invece, con l'incontro Roosevelt e Churchill, siamo nell'agosto del 1941. Dicevo, nell'agosto appunto del 1941, Roosevelt e Churchill definiscono le linee di fondo di un accordo, per il momento soltanto politico, di lì a poco anche militare, relativo a un impegno comune contro le potenze dell'asse che stanno spadroneggiando in Europa, e poi anche contro, naturalmente, le potenze, quando sarà il momento, contro l'intero patto tripartito Germania-Italia-Giappone. Naturalmente questa alleanza viene sottoscritta anche sulla base di un comune orizzonte di principi, di ideali, di valori, a partire dal rifiuto del imperialismo, del militarismo, del razzismo, che caratterizza l'ideologia delle potenze dell'asse, e nel nome del principio dell'autodeterminazione dei popoli. A un certo punto, nel corso della guerra, sarà giocoforza per gli alleati, per gli anglo-americani, unire le loro energie con quelle dell'Unione Sovietica, impegnate in uno sforzo colossale, titanico e costosissimo, anche e soprattutto, per quanto riguarda i costi umani, i sacrifici umani, nella lotta contro le forze di invasione, che stavano minacciando la stessa sopravvivenza dell'Unione Sovietica. Dicevo, gli alleati anglo-americani dovranno giocoforza unire le loro energie con l'Unione Sovietica contro la sfida mortale lanciata al mondo, all'umanità, dall'asse e dal patto tripartito. Certo, l'Unione Sovietica era a sua volta una potenza totalitaria guidata da un dittatore brutale e sottoposta ad un regime disumano. Ma è altrettanto vero che nelle circostanze che si stavano configurando era inevitabile fare una scelta, una scelta inevitabile per gli americani e per gli inglesi fare una scelta, una scelta all'insegna del principio del meno peggio e all'insegna del principio secondo cui il nemico del mio nemico è mio amico. e in quel caso il nemico della Germania nazista, dell'Italia fascista era l'Unione Sovietica con l'Unione Sovietica dunque conveniva allearsi appunto per vincere nella sfida tremenda contro l'asse e in primo luogo contro la Germania nazista. poi naturalmente questa sfida sarebbe stata estesa anche al Giappone. Ma per quanto riguarda il Giappone gli americani sapevano cavarsela da soli o quasi da soli invece era ben più complicato venire a capo di un osso durissimo come la Germania hitleriana. comunque questa unione delle forze dettata da uno stato di necessità dà come sappiamo i suoi frutti tant'è vero che a partire dalla seconda metà del 1942 le sorti del conflitto un po' in ogni scenario di guerra si ribaltano e col tempo volgeranno sempre più chiaramente a favore degli alleati e dell'Unione Sovietica ormai verso la fine del 1944 le sorti del conflitto sono chiaramente chiaramente segnate tant'è vero che sempre più spesso sempre più spesso gli inglesi gli americani e i sovietici si incontrano per delineare in termini generali i criteri della riorganizzazione politica del mondo e in particolare dell'Europa e per quanto riguarda l'Europa è decisiva la cosiddetta conferenza di Ialta un evento da tenere bene presente la conferenza di Ialta si svolge nel febbraio del 1945 a Ialta in Crimea una località affacciata dunque sul Mar Nero dove si ritrovano si incontrano i tre massimi leader politici rispettivamente dell'Unione Sovietica degli Stati Uniti e dell'Inghilterra vale a dire Stalin Roosevelt Roosevelt che non aveva ancora molto tempo da vivere sarebbe morto il 12 aprile del 1945 quindi di lì a un paio di mesi e Churchill in quell'occasione Roosevelt Stalin Churchill approntano una approssimativa e sommaria divisione del mondo all'indomani della fine della guerra in due grandissime sfere di influenza in due grandissime aree di egemonia una affidata al controllo degli Stati Uniti l'altra a quello dell'Unione Sovietica una vera e propria spartizione politica del mondo con l'Inghilterra schierata dalla parte degli Stati Uniti La conferenza di Yalta era stata preceduta qualche mese prima nell'ottobre del 1944 dalla conferenza di Mosca dove i rappresentanti delle potenze che si avviavano a vincere la guerra si erano invece concentrati più specificamente sulle questioni relative ad un'area intermedia tra l'Europa occidentale e l'Europa orientale vale dire la penisola balcanica e per quanto riguarda la penisola balcanica nella conferenza di Mosca era stato deciso di assegnare una parte di quest'area precisamente la Grecia all'influenza americana e il resto invece a quella sovietica poi le cose non sarebbero andate pienamente in questo verso però grossomodo questo fu l'orientamento assunto a Mosca nella conferenza di Mosca dell'ottobre del 44 tornando a quella di Yalta a Yalta oltre alla diciamo definizione in termini ancora molto generali della suddivisione delle sfere di egemonia nel mondo all'indomani della seconda guerra mondiale ci si concentrò anche sulla questione tedesca e si decise di provvedere subito dopo la guerra ad una occupazione della Germania sconfitta dividendone il territorio in quattro aree affidate temporaneamente provvisoriamente ciascuna al controllo di una di queste grandi potenze gli Stati Uniti l'Unione Sovietica la Francia l'Inghilterra quindi la Germania sconfitta nei primissimi tempi del dopoguerra sarebbe stata amministrata da queste quattro potenze che avrebbero controllato ciascuna un suo specifico settore di quel paese e come vedremo questi accordi in particolare gli accordi di Yalta avrebbero poi costituito diciamo il punto di partenza delle controversie innescatesi con l'avvio della guerra fredda a partire dal 1947 1947 cioè subito dopo che si era dissolto quel clima di amicizia di armonia di cooperazione di collaborazione che aveva caratterizzato fino a quel momento appunto fino al 1947 i rapporti tra le democrazie occidentali Stati Uniti e Inghilterra con la Francia diciamo schierata dalla parte di queste ultime da un lato e dall'altro dall'altro l'Unione Sovietica sempre nel 1945 avviene un altro fatto destinato a assumere un grande rilievo anche nel contesto della guerra fredda vale a dire la fondazione della organizzazione delle Nazioni Unite cioè dell'ONU l'ONU che è l'erede della Società delle Nazioni quindi anche l'ONU come la Società delle Nazioni è un organismo sovranazionale finalizzato in primo luogo ma non solo a gestire e a regolare i rapporti tra le Nazioni in modo da evitare per quanto possibile che i contrasti tra i diversi paesi sfocino in guerre o in eventi distruttivi la Società delle Nazioni viene fondata a San Francisco mentre la guerra in Giappone sul front nello scacchiere Pacifico è ancora in corso viene fondata a San Francisco nel giugno del 1945 e viene inaugurata quindi come dire si riunisce per la prima volta l'organizzazione delle Nazioni Unite l'ONU viene riunita per la prima volta il 24 ottobre del 1945 quindi qualche settimana dopo la fine la conclusione definitiva della guerra il 24 ottobre del 1945 a New York dove tuttora ha sede la sede dell'ONU a New York e il famoso Palazzo di Vetro come sono organizzate le Nazioni Unite le Nazioni Unite sono strutturate articolate in una almeno nelle loro nella loro i loro meccanismi decisionali sono articolate in una assemblea generale e in un consiglio di sicurezza per quanto riguarda l'assemblea generale è costituita dai rappresentanti di quasi tutti i paesi del mondo sono pochissime le nazioni al mondo che non abbiano rappresentanza nell'organizzazione delle Nazioni Unite tuttavia l'assemblea generale discute soltanto appunto le questioni di carattere generale e quindi assume posizioni di principio definisce linee e di fondo in relazione a problematiche globali invece il consiglio di sicurezza affronta questioni specifiche questioni di particolare gravità e di particolare urgenza i problemi più le emergenze scusate più incalzanti dunque sono affare del consiglio di sicurezza e il consiglio di sicurezza come è composto il consiglio di sicurezza è composto dai rappresentanti delle cinque potenze vincitrici della seconda guerra mondiale vale a dire Stati Uniti Russia l'Unione sovietica non c'è più Cina Inghilterra e Francia beh attorno allo status di vincitrice della Francia si potrebbe anche sollevare qualche obiezione e qualche riserva perché sì la Francia formalmente è uscita vincitrice dalla guerra tuttavia il suo contributo alla vittoria sull'asse sul patto tripartito non è certo paragonabile a quello a quello delle altre potenze che ho appena nominato sia come sia anche che la Francia è compresa in questo nucleo di cinque potenze presenti nel consiglio di sicurezza ebbene i rappresentanti di questi cinque paesi che ripeto sono Stati Uniti Unione Sovietica Cina Inghilterra cioè Gran Bretagna Regno Unito e Francia sono membri permanenti del consiglio di sicurezza cioè non cambiano mai hanno sempre i loro rappresentanti all'interno del consiglio di sicurezza ai cinque membri permanenti del consiglio di sicurezza se ne aggiungono altri dieci che però sono cambiati a rotazione sono nominati a rotazione in tutto dunque i membri del consiglio di sicurezza sono quindici cinque permanenti dieci nominati a rotazione quindici ebbene qualora uno solo dei membri permanenti dei rappresentanti dei membri permanenti del consiglio di sicurezza opponesse il proprio veto cioè il proprio rifiuto ad una decisione del consiglio di sicurezza questa decisione verrebbe revocata quindi affinché una decisione del consiglio di sicurezza sia valida deve avere il consenso non deve incontrare il veto di nessuno dei cinque membri permanenti del consiglio di sicurezza deve avere l'appoggio il favore di tutti i cinque membri del consiglio di sicurezza quindi come è evidente la vita della il funzionamento stesso dell'organizzazione delle Nazioni Unite è strettamente legato strettamente come dire riconducibile all'esito della Seconda Guerra Mondiale quindi la Seconda Guerra Mondiale proietta la sua ombra sulle relazioni internazionali mondiali del nostro presente anche in questo modo anche in questo modo a differenza della società delle Nazioni che non disponeva di nessuno strumento efficace per far valere le sue decisioni i suoi provvedimenti in caso di estrema necessità le Nazioni Unite possono far intervenire un contingente armato alle loro dipendenze per imporre o mantenere la pace in situazioni particolarmente delicate queste forze di pace queste forze militari di pace che operano sotto legida sotto la guida delle Nazioni Unite sono i cosiddetti caschi blu dell'ONU poi attorno alle Nazioni Unite gravita una piccola galassia di organizzazioni internazionali che si occupano di specifiche questioni per esempio l'UNESCO diciamo sovraintende al patrimonio culturale dell'umanità la FAO si occupa del problema della fame nel mondo e così via a proposito di organismi internazionali vale la pena anche di menzionare il tribunale dell'AIA che appunto si occupa dei processi relativi relativi ai genocidi ai crimini di guerra ai crimini contro l'umanità perpetrati dopo la fine della seconda guerra mondiale crimini contro l'umanità questa fattispecie giuridica i crimini contro l'umanità questa tipologia diciamo così di crimine venne definita per la prima volta in occasione del processo intentato ad un gruppo di dirigenti nazisti all'indomani della fine della guerra fra un processo celebratosi processo come dire di rilevanza storica celebratosi tra l'ottobre del 1945 e l'ottobre del 1946 nella città tedesca di Norenberga Norenberga non era stata scelta a caso per celebrare questo processo il processo di Norenberga appunto Norenberga era stato uno dei luoghi preferiti diciamo dal regime nazista per celebrare le sue adunate per mostrare al mondo la sua potenza e il suo prestigio a Norenberga tra l'altro erano state anche decise e approvate le leggi persecutorie nei confronti nei confronti degli ebrei e quindi Norenberga assumeva anche una valenza simbolica molto forte come sede di quel processo Norenberga e come tante altre città tedesche nel 1945 ridotta a un cumulo di macerie lì vengono processati alcuni dei leader più importanti della Germania nazista tra di essi il vice di Hitler Hermann Goering ebbene al termine di questo processo dieci degli imputati vengono condannati a morte e vengono condannati a morte appunto con l'imputazione di crimini contro l'umanità i crimini contro l'umanità sono un tipo di crimine che viene per la prima volta definito e distinto dai crimini di guerra i crimini di guerra consistono in eccessi di crudeltà e di efferatezza compiuti comunque nel contesto di operazioni militari di operazioni di guerra invece i crimini contro l'umanità sono crimini che non possono essere come dire inquadrati semplicemente semplicemente si fa per dire inquadrati soltanto come eccessi di ferocia di crudeltà di vendicatività nell'ambito di operazioni militari si tratta di come dire offese indelebili alla stessa idea di umanità non sono semplici eccessi semplici semplici ripeto una parola inadeguata inappropriata non sono eccessi sono dei crimini che equivalgono a negare alla radice l'idea stessa di uomo e l'idea stessa di umanità crimini non accettabili nemmeno nelle condizioni estreme non immaginabili la cui gravità non può essere minimamente come dire attenuata nemmeno dalle condizioni estreme determinate da una guerra totale ecco crimini che comportano la negazione dell'umanità per le vittime e la perdita dell'umanità per chi compie questi crimini è la prima volta appunto che vengono combinate delle condanne delle condanne a morte per crimini contro l'umanità oggi il tribunale dell'AIA non è autorizzato a combinare condanne a morte anche per i crimini contro l'umanità la pena di morte non rientra tra le condanne combinabili dal tribunale dell'AIA ecco il tribunale di il processo di Norimberga costituì per la Germania un'occasione come dire di ripensare a fondo quello che era successo e il coinvolgimento nell'orrore che si era che era stato perpetrato dalla Germania nazista il coinvolgimento in questo orore di gran parte del popolo tedesco poi purtroppo questo lavoro per così dire di riappropriazione autocritica di quel recentissimo passato lasciò il posto ad un parziale tentativo di rimozione sicché si può dire che nonostante il processo di Norimberga i conti con quel tremendo passato per qualche tempo non furono fatti fino in fondo del resto questo discorso riguarda anche l'Italia che nemmeno ebbe qualcosa di dove nemmeno avvenne qualcosa di simile a un processo di Norimberga solo nei decenni successivi in Germania si sarebbe fatta strada la consapevolezza di una profonda riflessione autocritica su quello che era accaduto ecco questo per quanto riguarda per quanto riguarda appunto il preludio premesse della guerra fredda la guerra fredda vera e propria parleremo in seguito a presto